Conclusa la 73esima edizione del Festival del Cinema di Berlino, l'Orso d'Oro lo vince sur l'Adaman di Nicolas Filbert, film documentario francese. Il regista ci porta a bordo di una struttura galleggiante situata al centro di Parigi. Si tratta di un centro d'accoglienza per adulti affetti da disturbi mentali. L'Orso d'Argento, gran premio della giuria, va a Roter Himmel di Christian Petzold, regista già vincitore dell'Orso d'Argento per la miglior regia nel 2012 con Barbara. L'Orso d'Argento, premio della giuria, va a Malvi Verdi Joao Canio, che racconta di cinque donne impegnate a mandare avanti un albergo che hanno ereditato. L'Orso d'Argento, per la miglior regia, va a Philippe Garrel per le Grand Cariot. Il film segue una famiglia di marionettisti che fa spettacoli per i bambini fino a quando il padre si ammala. Nel cast sono presenti tutti e tre i figli del regista Luis, Esther e Elena Garrel. L'Orso d'Argento, per la migliore interpretazione della protagonista, vince la giovanissima Sofia Otero, protagonista di 20.000 specie di api. Nonostante abbia solo otto anni, l'attrice spagnola sembra avere già le idee chiare sul futuro, dichiarando di voler dedicare la sua vita a recitare, mentre ritirà il premio commossa. L'Orso d'Argento, per la migliore interpretazione del non protagonista, va all'attrice Thea Herr, interprete di Tilde End of Night. Per la 23enne tedesca è il primo ruolo cinematografico. L'Orso d'Argento, per il contributo artistico, va alla direttrice della fotografia, Hélène Louvart, per Disco Boy, di Giacomo Abruzzese, premio della giuria per l'Inale Series, The Good Mothers, di Julian Giarrole e Elisa Moruso, serie italiana, che uscirà su Disney il 5 aprile prossimo. L'Orso d'Argento, per la migliore sceneggiatura, se lo aggiudica Angela Shanelek, per Music, di cui è anche regista. Il film è un adattamento moderno del mito di Edipo, così il festival chiude il suo sipario, ma colpisce anche quest'anno per la sua varietà, per il programma e per i vincitori. Ha dato spazio a film convenzionali e non che trattano di storie comuni o rielaborano miti ormai sedimentati nella memoria collettiva. A Berlino, veterani del settore e giovani alla prima esperienza hanno le stesse possibilità. Basta guardare le giovanissime attrici vincitrici e il regista premiato con l'Orso d'Oro, che invece ha 72 anni. del settore e del settore. Anche a tutti i bambini anche a me. A me dimentation di QTSS, in grado, c'è un회evo di corso. Anche a tutti i bambini anche a me. Grazie a tutti.